Mi prendi gli anelli di cipolla? Sicuro di star bene? Faccio a terra! Riconosce l'uomo che ha visto nel negozio? Il numero 4. Sì, è lui. Hagen è un sociopatico, un assassino a sangue freddo. Entri nel programma protezione testimoni. Niente male. È semplice, non testimoniare e tutto questo finirà. Finirà quando sarai condannato. È in arrivo un mio amico per te e la ragazza. Lui non si fermerà finché non sarete morti tutti e due. Jeremy, sta giù! No! Stammi a sentire, bastardo. Io ti troverò, ti ucciderò, sparirò e nessuno lo saprà mai. Niente protezione testimoni. Sei tu che devi proteggerti da me. Dimmi come è arrivare a Hagen. Non lo conosco. Devi fermarti. Questo è l'unico modo per restare insieme. Lo voglio morto quanto te. Ma sono un poliziotto. Dammi un'altra notte. Io lo ucciderò. Pregherò per te. Di un'altra notte. A presto. Di un'altra notte. Un'altra notte.